Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo che vengono da tutti i giovedì da Radio Gamma 5 e oggi concluderemo anche il crogiolo del male innanzitutto vi do il mio indirizzo se a qualcuno interessa Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, Venezia e vi do l'indirizzo dell'Istituto Metraneo Studi Politeistiche Casella Postale 53 Malostica Vicenza l'argomento della trasmissione di oggi è l'ultimo capitolo del crogiolo del male in pratica con oggi giorno 24 dicembre noi concludiamo anche l'ultimo crogiolo che ci era rimasto l'altra volta giovedì scorso abbiamo concluso il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo e oggi concludiamo il crogiolo del male con l'ultimo elemento che mettiamo nel crogiolo è chiamare le cose con il loro vero nome e come questo viene distrutto alcune persone insistono altre di nuove si sono aggiunte altre, Marco me lo ha detto anche la settimana scorsa mi ha detto sì, la prima parte della trasmissione faccio fatica a sentirla faccio fatica a seguire quello che stai leggendo allora io ho già dato la giustificazione dicendo che la prima parte della trasmissione deve toccare le persone, cioè deve toccare quelle parti delle persone che sono ancora vive cioè devono far capire alle persone che esiste un messaggio sotto ed è vero che io non so presentare le cose in maniera diversa cioè questo è il mio fare e la mia azione però è altrettanto vero che se le persone non riescono a richiamare quello che hanno dentro i miei discorsi sono assurdi cioè quando una persona pensa di essere creata in immagine e somiglianza ad un Dio pazzo è chiaro che qualunque cosa che non gli dia un altro Dio che non gli dice devi metterti in ginocchio davanti a un'altra divinità a un altro padrone eccetera è abbastanza allucinante per fare un discorso i testimoni di Geova possono fare proselitismo fra i cattolici perché? perché il Dio che loro propongono la dottrina che loro propongono anche se ha alcune diversità tutto sommato è molto legata ai concetti cattolici è molto legata al Dio creatore noi invece non possiamo assolutamente fare un'azione nei confronti di chi crede chi è convinto chi ha una fede in un Dio padrone in un Dio creatore in una verità rivelata noi costruiamo una libertà costruiamoci un percorso attraverso il quale l'individuo riconosce se stesso un Dio in relazione ad altri dei nel mondo che li circonda e questo concetto che è solo un'idea cioè è solo un concetto che io propongo è comunque espressione di uno stato psichico di uno stato mentale di un modo di essere di un modo di porsi delle persone che costruisce oppure demolisce delle barriere che le persone hanno dentro e sono le barriere educazionali le barriere del sentire per cui soltanto una persona che ha già dentro di sé il seme nel dire io esisto io sono io non devo dipendere da nessuno può intuire può sentire parte di quello che io dico dopodiché il fatto che io lo leggo male lo leggo molto in fretta non do delle ulteriori spiegazioni beh, questo chiaramente crea delle difficoltà però riuscire a sentire quello che dico io cioè riuscire a intuire cosa c'è alla base di quello che dico io questo lo può fare solo quelle persone che hanno ancora il vivente dentro di sé hanno ancora l'energia vitale dentro di sé ancora viva che non si sono completamente messi in ginocchio davanti al Dio padrone e questa è la prima spiegazione da dare la seconda cosa da dire è questo con questo crogiolo dello stregone cioè con questo elemento chiamare le cose con il loro vero nome nel crogiolo del male io chiudo il crogiolo dello stregone chiudo il crogiolo del sì, il crogiolo del male anche se ci sono altre cose da dire perché dovrei forse lo farò magari giovedì prossimo cioè gli elementi che ho messo nel crogiolo in realtà sono ogni elemento è un crogiolo cioè chiamare le cose con il loro vero nome è un insieme di elementi ed è un crogiolo a sua volta che viene ad agire all'interno dell'individuo non solo ma ogni elemento del crogiolo è un essere divino cioè una coscienza divina è una coscienza divina che cresce dentro l'individuo e che trova il suo corrispettivo nel mondo circostante per cui soltanto il divino che cresce dentro l'individuo incontra il divino nel mondo circostante e gli elementi del crogiolo dello stregone sono altrettanti divini e noi potremo fare una ricerca culturale per vedere questi esseri divini questo essere divino della persona ed esseri divini in se stessi divinità come nelle varie culture sono stati intuiti sono stati sentiti sono stati definiti sono stati descritti però questo non lo faremo non lo faremo perché? perché chiusa questa fase del crogiolo dello stregone io mi prenderò una vacanza intellettiva fra virgolette di un paio di mesi facendo le trasmissioni sulla conferenza espositiva dei concetti della magia della stregonaria che abbiamo iniziato all'inizio di queste trasmissioni oltre due anni fa per cui rifarò quel ciclo e cosa farò mentre faccio quel ciclo? siccome per fare quel ciclo non devo lavorare non devo studiare non devo mettermi a scrivere perché il materiale è tutto pronto le cose sono già dette potremmo dirle un po' meglio o un po' peggio però le cose sono già state definite preparerò una grande sfida cioè praticamente farò felice il nostro amico Francesco perché farò felice il nostro amico Francesco? perché Francesco ha un debole particolare per Giuliano il cosiddetto apostata Giuliano l'apostata il quale tentò in un'ultima operazione storica la rinascita del paganesimo o di un sentire pagano bene quella rinascita di quel sentire pagano passò attraverso il neoplatonismo cioè una scuola filosofica che iniziata da Ammonio Sacca continuò praticamente fino al 4-500 dopo di che venne spazzata via e fu la bar per tutto il per tutto il medioevo poi è stato parlato di queste di questi lavori e fra le altre cose in questa scuola neoplatonica c'è Ipazia faceva parte di Ipazia e c'è quella donna che venne torturata dai cattolici cioè dalla folla ignorante dappertutto troverete la folla ignorante dei cristiani che l'hanno massacrata gli hanno levato la pelle con le conchiglie tanto per per capirci un attimino cosa gli hanno fatto perché era una donna ed era un sapiente di filosofia i cristiani odiano le due cose per i cristiani l'ignoranza è l'unica cosa su cui su cui lavorano questa scuola fu iniziata diciamo così da Ammonio Sacca e fu portata avanti da Porfirio da Plotino da Giamblico e ognuno aveva le sue le sue variazioni Giamblico non rispondeva le telefonate finché non ho finito la presentazione Giamblico era più più religioso Plotino era più filosofo e Porfirio invece è quello che scrisse il libro contro i cristiani di cui vi ho già parlato che fu bruciato e quella data segna un momento di trasformazione ebbene Plotino scrisse un commentario agli oracoli caldaici il commentario agli oracoli caldaici che scrisse Plotino non so se sia andato perduto o se ci sia da qualche parte non ho delle informazioni culturali tali per sapere se c'è ancora oppure no comunque a me non interessa il fatto che ci sia o meno quel commentario di Plotino però io ricostruirò il commentario agli oracoli caldaici che però io non ho tutti gli oracoli ma solo i frammenti che ci sono arrivati fino adesso ricostruirò tutto in commentario e lo ricostruirò dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista ma non del tardo paganesimo quello di Giuliano l'Apostata ma di tutto il sentire pagano come elemento centrale dell'esistenza dell'essere umano per cui dopo due mesi che andremo avanti con la conferenza i concetti espositivi della conferenza io intanto mi preparerò cioè butterò in computer i frammenti farò le prime trasmissioni preparerò almeno due o tre trasmissioni e poi cominceremo a commentare gli oracoli caldaici dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo politeista e rilancieremo questa sfida cioè il paganesimo sconfitto di allora dove i germi della sconfitta erano anche all'interno del paganesimo perché a un certo punto in plotino non si capisce bene alcune differenze come quali siano le differenze in effetti con quelle dei cristiani c'è un modo di dire un modo di affermare le cose che si assomiglia per cui diventa facile per chi è militarmente più forte sovrapporre i concetti e infatti parte della sconfitta è dovuta anche a questo e andremo a ricostruire il commentario quel commentario diventerà un punto fondamentale della ricostruzione del paganesimo e della stregoneria oggi invece affronteremo il chiamare le cose con il loro vero nome nel crogiolo dello stregone vi ricordo che i crogioli dello stregone sono stati iscritti sono stati iscritti vengono fotocopiati viene fatto un fascicolo e il fascicolo viene venduto al prezzo più modico possibile praticamente al costo delle fotocopie a proposito di questo io ho un'operazione da preparare per marzo un'operazione che io ritengo abbastanza importante e dovevo preparare parecchi libri per questa operazione cioè parecchi fascicoli per questa operazione purtroppo l'impulso della preparazione ha superato quella che era la ragione la conoscenza meccanica e ho fuso il fotocopiatore di casa per cui a meno di metà del lavoro ho fuso il fotocopiatore ho fatto un danno di circa un milione e là mi tocca ricomprarmi un altro fotocopiatore perché non vale la pena ripararlo a quel prezzo e l'ho fuso là dove io non posso intervenire cioè nelle schede elettroniche io sono meccanico e nelle schede elettroniche più di tanto non sono in grado di metterci le mani e oltretutto è abbastanza vecchio che non vale la pena insomma di metterci le mani più di tanto per cui già il lavoro è stato rallentato molto questo non è che mi inficia perché fra collaudi uso della ditta uso di altri fotocopiatori riesco comunque a preparare i fascicoli però non riesco più a venderli più di tanto cioè quelli che ho già dato distribuito va bene però la vendita farò fatica a venderli ecco nel senso che non ne avrò un numero sufficiente per fare l'operazione di marzo che mi interessa fare che per me è estremamente importante le operazioni di marzo ve ne parlerò a febbraio comunque per cui niente fra poco metterò in stampa Giuda di Dimo Tommaso l'ultimo stragone pagano nella seconda trasmissione vi leggerò qualcosa e niente chi mi acquisterà quel libro cioè Giuda di Dimo Tommaso appena riuscirò a farne delle copie mi aiuterà a comprare un altro fotocopiatore per cui tenete presente insomma se qualcuno vuole darmi una mano per comprare un altro fotocopiatore per mettermi nelle condizioni di continuare a lavorare comprando Giuda di Dimo Tommaso l'ultimo stragone pagano mi aiuterà a ricomprarmi un fotocopiatore per cui vedete voi insomma cosa se vi piacciono le mie trasmissioni se vi piace quello che dico se vi va bene quello che faccio se invece quello che faccio vi fa schifo perché sono un anticattolico allora chiaramente non fatelo detto questo andiamo a chiamare le cose con il loro vero nome ultimo elemento da trattare nel crogiolo del male prima di trattare come si blocca il chiamare le cose con il loro vero nome parliamo del risultato che questo comporta leggiamo da Kant nella sua critica alla ragion pura nelle storie di magia e di stregoneria voi trovate molte volte la necessità da parte del protagonista di trovare il vero nome di una persona o di una cosa in molte storie popolari è rimasta traccia di questo fare diventato ormai un modo per ingannare o per truffare un avversario più o meno onesto che nasconde qualche cosa che gli si vuole sottrarre per sottrarre quanto nasconde allora cancellate il leggiamo da Kant nella sua critica alla ragion pura che non c'entra assolutamente niente lo vediamo dopo riprendiamo il discorso dall'inizio ultimo elemento da trattare nel corgiore del male prima di trattare come si blocca il chiamare le cose con il loro vero nome parliamo del risultato che questo comporta nelle storie di magia e di stregoneria voi trovate molte volte la necessità da parte del protagonista di trovare il vero nome di una persona o di una cosa in molte storie popolari è rimasta traccia di questo fare diventato ormai un modo per ingannare o per truffare un avversario più o meno onesto che nasconde qualche cosa che gli si vuole sottrarre per sottrarre quanto nasconde è necessario trovare il suo nome rendere innocuo il suo potere di possesso chiamare le cose con il loro vero nome è trovare il nome delle cose un nome che non è un insieme di lettere ma un insieme di fenomeni che formano la cosa stessa individuare i fenomeni che quella cosa emana vi ricordo che non prendo le telefonate individuare le fonti che alimentano quella cosa individuare l'intento che quella cosa spinge ad espandersi questo è chiamare le cose col loro vero nome il crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo nel crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo vedremo come questo fare ci permette di fondere i crogioli nel crogiolo del male vedremo come l'impedimento a chiamare le cose col loro vero nome si è fatto per impedire agli esseri umani di diventare parte del mondo circostante e conoscere l'oggetto in sé impedire agli esseri umani di chiamare le cose col loro vero nome significa predisporre gli esseri umani ad esseri ingannati sottometterli ad inganno far dell'inganno la manifestazione della loro esistenza tutte le religioni di verità rivelata alimentano dei meccanismi di condizionamento educazionale finalizzato ad impedire agli esseri umani di chiamare le cose col loro vero nome questa pratica per loro è l'atto del loro profeta il loro profeta ha chiamato le cose col loro vero nome in quanto ispirato dal suo dio padrone e questo chiamare le cose col loro vero nome viene imposto come verità a cui piegare gli esseri umani ogni religione rivelata è dunque una truffa che partendo dalla tesi secondo cui il dio padrone rivela una verità la vita degli esseri umani viene sintetizzata come un processo di soggettivazione a tale verità di esternazione della loro soggettivazione attraverso l'imposizione di questa verità ad altri esseri umani il dio padrone rivela come costruire la sottomissione distruggendo il divenire degli esseri umani questa distruzione i seguaci delle religioni rivelate la chiamano fede da imporre a chiunque per poter seminare la distruzione per imporre la distruzione è necessario che nessuno chiami le cose col loro vero nome ma riconosca quelle cose col nome che gli ha dato il profeta della religione rivelata dove per fede si intende l'abbandono fiducioso nelle mani del boia mentre taglia la testa del divenire dell'esistenza se altri nomi vengono date alle cose allora si sviluppano guerre finché a quel nuovo profeta viene distrutto oppure si scopre un sistema per affiancare il nuovo modo di chiamare le cose col loro vero nome al vecchio e sottomettere ulteriormente gli esseri umani quegli esseri umani che siano ribellati al vecchio modo di chiamare le cose col loro vero nome del profeta precedente e che volentieri appoggiavano il nuovo profeta inconsapevoli degli infiniti nomi delle cose e pronti a rinnovare sotto il nuovo modo di chiamare le cose col loro vero nome la sottomissione e la distruzione del loro divenire la verità quando viene definita è un modo per impedire gli esseri umani di chiamare le cose col loro vero nome costringerli ad appoggiare quella verità perché si è giunti al momento in cui gli esseri umani cercano una verità da appoggiare cosa li ha portati a questo quando si aderisce ad una verità si è ucciso alla ricerca di chiamare le cose col loro vero nome in quanto si è trovato chi ti ha confezionato il nome con cui chiamare le cose quel confezionamento si chiama verità quel confezionamento non ammette discussioni non ammette alternative non ammette la ricerca di chiamare le cose col loro vero nome come si è giunti a questo per comprendere come si giunge a sottomettersi alla verità rivelata è necessario comprendere i meccanismi del condizionamento educazionale religioso il bambino cresce fa delle domande e a quelle domande riceve delle risposte funzionali all'adulto per liberarsi della risposta stessa o ancora riceve dall'adulto non la risposta alla domanda che il bambino ha fatto in funzione del proprio intento ma la proiezione dell'adulto su come vorrebbe che fosse quella risposta il condizionamento religioso monoteista era estremamente feroce fino ad alcuni decenni orsono oggi è più sottile si manifesta in modo diverso tentando di adattarsi ai nuovi situazioni che sono venute creandosi la costruzione della sottomissione del bambino passa attraverso delle tappe di formazione del giudizio dove la formazione del giudizio implica necessariamente la rinuncia a chiamare le cose col loro vero nome in quanto l'adulto cui il bambino si riferisce ha rinunciato a chiamare le cose col loro vero nome mi servirò del libro di Renzo Vianello la religiosità infantile che veniva forse viene usato ancora usato all'università di psicologia di Padova dato che la prefazione affirma di Guido Peter che dirigeva quella facoltà per seguire la traccia su come vengono imposti i concetti religiosi ai bambini io parto dalla conclusione del lavoro di Vianello che dice la prima ipotesi è che gli atteggiamenti realistici egocentrici magici artificistici ed animistici condizionano particolarmente l'acquisizione delle nozioni religiose tale scusate un attimo solo scusate ma era troppo importante perché non lasciassi i microfoni degli amici sono venuti a trovarmi erano amici troppo importanti per non lasciare il microfono spero che abbiate avuto pazienza aspettarmi e riprenderemo ancora il discorso da mi servirò del libro di Renzo Vianello la religiosità infantile che veniva forse viene ancora usato all'università di psicologia di Padova dato che la prefazione è a firma di Guido Peter che dirigeva quella facoltà per seguire la traccia su come vengono imposti i concetti religiosi ai bambini io parto dalla conclusione del lavoro di Vianello che dice la prima ipotesi è che gli atteggiamenti realistici egocentrici magici artificistici ed animistici condizionano particolarmente l'acquisizione delle nozioni religiose tale condizionamento è particolarmente intenso prima dei sette anni e tende a sparire con i dieci undici anni in particolare è stato possibile mettere in evidenza che il realismo soprattutto nella forma di antropomorfismo e l'egocentrismo infantili ostacolano particolarmente l'assimilazione delle seguenti nozioni religiose Dio onnipotente è quindi capace fra l'altro di aiutare gli uomini nei pericoli e di risuscitare i morti Dio onnipresente Dio spirito Cristo uomo Dio vedi le ricerche che cita il Vianello 1, 2 e 4 e ancora l'atteggiamento magico favorisce la credenza dell'onnipotenza divina tale influenza favorevole agisce tuttavia in modo significativo solo con i sette e otto anni perché nell'età precedenti essa è contrastata dall'antropomorfismo che si rivela molto più influente nelle condizionare l'assimilazione delle nozioni religiose da parte del bambino vedi la ricerca 1 e 2 ancora l'artificialismo favorisce fin dai 6-7 anni la credenza in Dio creatore vedi le ricerche 3, 4, 8 e ancora l'animismo favorisce nei soggetti in cui è ancora presente una moralità di tipo eteronomo e non chiedete cosa vuol dire la credenza di una specie di giustizia immanente tale credenza favorisce a sue volta la credenza in Dio garante della giustizia del mondo attraverso la natura vedi ricerche 5, 6 e 9 questo schema è lo schema deduttivo che presenta Vianello suffragando attraverso una serie di ricerche di ipotesi di lavoro a me non interessa stabilire quanto questo schema sia giusto o meno mi interessa stabilire che l'imposizione della credenza delle religioni monoteiste è un atto di imposizione progressiva è un atto di assimilazione soggettiva nel bambino e che i meccanismi attraverso i quali il bambino soggettivizza il monoteismo è un processo attraverso il quale viene distrutta la sua capacità di costruirsi nei mutamenti mi interessa altresì chiamare che quest'atto non è un atto indolore ma passa ma passa attraverso tutta una serie di meccanismi difensivi del bambino che comunque tenta di resistere all'imposizione adattando l'imposto alla propria interpretazione il condizionamento di cui parla Vianello in realtà è la resistenza che il bambino compie al tentativo di assoggettarlo ad una credenza religiosa monoteista il monoteismo non è istinto soggettivo ma è condizionamento educazionale ottenuto attraverso la distruzione della soggettività del bambino il cattolicesimo ha costruito attraverso la propria esperienza nel condizionare i bambini dei meccanismi attraverso i quali l'imposizione religiosa e le credenze sono regolate in base all'età a quell'età si deve imporre quella e solo quella credenza in quanto il bambino in quell'età oppone quella resistenza quella credenza distrugge quella resistenza e prepara il bambino per la credenza che viene imposta successivamente Vianello parla di atteggiamenti soggettivi del bambino che condizionano il suo credere che gli viene imposto a Vianello non viene in mente quanto quel credere che viene imposto al bambino sia una storpiatura del divenire del bambino stesso non gli viene in mente che la credenza imposta sia un'aberrazione Vianello come tutti gli adoratori di un Dio creatore sia che dichiarino di credere o che siano atei ma che ne accettano la visione del mondo in quanto considerano quella visione come naturale considera il condizionamento educazionale monoteista come un atto naturale quasi dovuto considera che il bambino debba essere sottoposto a quell'atto perché affermo questo? perché Vianello non considera che la credenza religiosa sia un'arma di distruzione del divenire del bambino ma una specie di credenza innocua che il bambino nonostante una ferocia rotta per oporsi deve comunque accettare dunque Vianello mette in luce non tanto i danni che quella credenza imposta procura al bambino ma la qualità delle credenze che il bambino oppone a tanta violenza è una questione di predisposizione mentale Vianello ci dice che l'atteggiamento realistico nel bambino è d'ostacolo alla violenza dell'imposizione dei concetti di un Dio onnipotente e quindi in grado di aiutare gli esseri umani nei pericoli di fare suscitare i morti eccetera un atteggiamento realistico ed egocentrico impedisce al bambino di sottoporsi alla violenza della preghiera nelle ricerche che Vianello cita la numero uno è interessante in quanto in quella ricerca presenta delle storie dei bambini fra i 7 e gli 11 anni chiedendo di completare una storia come loro volevano che la storia finisse le storie presentavano delle situazioni abbastanza drammatiche nelle quali i bambini adulti si trovavano in grande difficoltà ebbene nella ricerca sono stati completati completati dai bambini 209 racconti in ambiente cattolico abitanti a Venezia e quasi nessuno faceva riferimento a un intervento di Dio Salvatore come controprova ha voluto far completare i racconti a bambini fra gli 8 e i 9 anni che durante l'anno dovevano fare la comunione e a bambini di 10 e 11 anni che dovevano ricevere la Cresima la prova è stata fatta in parrocchia ma senza il prete cattolico presente anche in quella situazione il 56% dei bambini non nominarono Dio solo due dissero che i passeggeri dell'aereo in pericolo e in preda al panico si misero a pregare com'è che si manifesta il realismo nella storia dell'aereo che sta precipitando consiste nel pensare che vi siano situazioni o cose che si possono fare prendere l'estintore il pilota che aiuta i sopravvissuti alcuni muoiono eccetera ciao 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 alcuni muoiono eccetera anche quando un bambino mette Dio onnipotente nella storia non è Dio che salva i passeggeri ma è un meccanico per quel bambino Dio è onnipotente ma è meglio il meccanico che ripare il guasto il realismo è il miglior argine che ha il bambino per fermare la sua sottomissione al Dio padrone per fermare il terrore che vorrebbe sottometterlo l'egocentrismo funziona da proiettore di se stesso da protettore di se stesso e gli sa che le macchine si rompono e si possono riparare salvo quando uno fonda il fotocopiatore che era il costo della riparazione superiore comunque ringrazio gli amici che sono appena venuti i quali hanno voluto immediatamente contribuire grazie infinite la conoscenza soggettiva usata in modo razionale e proiettata in situazioni che ne determinano il risultato la debolezza del bambino sta appunto nella conoscenza quasi nessun adulto spiega o dimostra al bambino che lo sconosciuto che deve affrontare è infinitamente più grande e comprensivo di molte cose e situazioni che lui nemmeno immagina se così fosse al presentarsi di una cosa completamente nuova il bambino direbbe ecco dallo sconosciuto che mi circonda mi è giunto qualche cosa di nuovo vediamo come funziona vediamo che cos'è il realismo del bambino viene al realismo del bambino viene sovrimposta la credenza che Dio è onnipotente pertanto si riconosce il realismo del bambino affiancandolo con l'onnipotenza del Dio padrone al quale si chiede al bambino di sottomettersi come afferma Vianello dice Vianello una seconda ipotesi implicitamente già espressa nell'espressione dell'ipotesi precedente si basa sul presupposto che ogni apprendimento di nozioni nuove e complesse è frutto di un processo lento e graduale ciò implica che le credenze infantili si modificano lentamente con l'età che le vecchie credenze di solito non spariscono mai bruscamente che nel passaggio da una vecchia a una nuova credenza compaiono delle credenze di compromesso eccetera dunque il condizionamento educazionale della religione monoteista passa attraverso delle fasi di assimilazioni per sovrapporre l'onnipotenza del Dio al realismo del bambino è necessario distruggere la conoscenza del bambino stesso se il bambino non sapeva che l'intervento del meccanico poteva ovviare al guasto per salvare chi era in una situazione drammatica in aereo avrebbe pensato solo a Dio salvatore ecco allora il condizionamento educazionale cattolico agire affiancando l'onnipotenza di Dio al fare umano e subito quando si presentano situazioni non risolvibili da parte conoscenza del bambino inserire l'onnipotenza del Dio padrone creatore al quale si chiede immediatamente sottomissione la ragione del bambino proprio perché non è onnisciente viene agguantata dall'orrore cattolico così il bambino anziché chiamare le cose con il loro vero nome e chiamare lo sconosciuto sconosciuto lo chiama intervento di Dio onnipotente e piega il proprio pensato all'idea di Dio onnipotente il realismo del bambino impedisce al cattolicesimo di imporre alla sua ragione i fantasmi dell'onnipotenza di Dio del Dio onnipresente del Dio come spirito e del Cristo uomo e Dio insieme nel secondo punto messo in luce da Vianello si afferma che l'atteggiamento magico favorisce la credenza dell'onnipotenza divina ebbene Vianello omette di dire quale magia per Vianello la magia è la magia cattolica il fare della magia cattolica è azione nel quotidiano del tipo le montagne si buttano a mare risorgiati Lazaro fermati vento moltiplico i panni e i pesci questo tipo di magia è parte integrante del cattolicesimo che si è sviluppato attraverso trucchi da imbonitore o attraverso la superstizione il cattolicesimo spaccia questo per magia il bambino davanti allo sconosciuto non diventa intrepido perché aspetta l'operazione magica l'intervento del dio nipotente o del mago quando un problema viene risolto e il bambino non è in grado di cogliere i passaggi della soluzione questa viene attribuita all'intervento del dio nipotente grazie a dio che hai fermato la peste tanto per essere chiari è vero che il guasto è riparato dal meccanico ma è dio che ha mandato il meccanico si sposta all'intervento del dio nipotente come fare magico dietro le azioni umane tutto questo serve per impedire al bambino di affrontare lo sconosciuto per quello che è e convincersi dell'esistenza di un dio nipotente che manovra tutto quanto si presenta si impone alla mente del bambino un sistema a priori che ne distruggerà l'ardimento col quale affrontare lo sconosciuto circostante non è la concezione del magico ma è trattazione puerile delle barzellette inventate la puerilità del cattolicesimo non è finalizzata ad imporre il cattolicesimo agli esseri umani adulti ma è finalizzata all'imposizione attraverso la violenza del condizionamento educazionale degli apriori su cui viene a fondarsi i concetti cattolici ai bambini solo la violenza sta alla base del credo monoteista un dio impotente deve rendere impotenti gli esseri umani per poterli distruggere nella terza preposizione Vianello afferma che l'artificismo favorisce fin dai 6-7 anni la credenza di un dio creatore cosa significa a questo significa che al bambino viene spiegato che quanto esiste è stato costruito tutti gli oggetti che usiamo nel quotidiano sono costruiti a volte anche i genitori sono dei costruttori e la madre la minestra deve costruirla prendendo delle cose e trasformandole tutto viene costruito e di questo il bambino diventa consapevole tanto che alcuni bambini di Milano alla domanda chi produce il latte risposero la centrale del latte avevano il concetto solo del latte confezionato quando il bambino fa domande la risposta dicono gli adulti deve sempre essere semplice ma la semplicità non è per il bambino che ascolta ma per soddisfare il narcisismo di chi la dà senza poter essere sconfessato la risposta di un dio creatore altro non è che il proseguo del fatto che tutto viene costruito condito con la pavidità dell'adulto di costruire e alimentare la propria conoscenza e il proprio sapere dal momento che l'adulto ha rinunciato ad espandersi nel mondo così propone al bambino la propria sconfitta come il muratore fa le case Dio ha creato il mondo questo qualcuno che crea diventa un tarlo che rode il cervello e questo tarlo impedirà il bambino per il resto della propria vita a concepire modi diversi attraverso i quali l'esistente è venuto formandosi questo tarlo impedirà il bambino di scoprire il dio che cresce dentro di lui e tutti gli dèi che crescono attorno a lui vedrà solo cose e forme che hanno origine da dio a questo piegherà il suo pensiero per il resto della vita gli è stato impedito di chiamare le cose con il loro vero nome il nome che dà alle cose è quello di oggetti creati dal dio padrone nella quarta preposizione Vianello parla dell'animismo come veicolo alla credenza di una giustizia immanente anche questa è una distorsione degli adulti vuoti l'animicità degli oggetti porta dei processi di adattamento degli oggetti attraverso l'esercizio del loro libero arbitrio inteso come adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate anche questo viene usato dai preti cattolici e dagli adulti vuoti per parlare di una morale da sovrapporre ai processi di adattamento nessuno spiega i processi di adattamento al bambino nessuno spiega al bambino che lui tira la coda al gatto e il gatto lo graffia per liberarsi dalla presa e dalla paura ecco la madre con la scopa picchiare il gatto cattivo e insegnare al bambino che quando si fa del male c'è Dio che punisce così il bambino che cresce viene punito perché non è in grado di presentare l'autodisciplina che i genitori vorrebbero che avesse o non è in grado di obbedire agli ordini imposti in quanto contrastanti con i suoi bisogni questo viene usato dai preti cattolici per imporre la visione di Dio giudice padrone un Dio giudice padrone di cui loro sono i rappresentanti e pertanto essi stessi giudici e padroni ecco alcuni elementi attraverso i quali si costruisce il condizionamento educazionale cattolico ogni elemento e molti che non sono descritti sia in quanto tali che riprodotti in situazioni diverse è un atto di magia nera è un atto attraverso il quale si distrugge il divenire degli esseri umani solo per il fatto che in quanto bambino non è in grado di discriminare e difendersi tutti questi elementi servono a costringere il bambino a non chiamare le cose col loro vero nome questo è il senso nei Vangeli lasciate che i bambini vengano a me non chiamare le cose col loro vero nome comporta l'assoggettamento al concetto a priori del Dio creatore dove le cose sono sue emanazioni ed egli semplice spettatore appartenente ad un greggio cioè il bambino un semplice spettatore appartenente ad un greggio che viaggia sulla strada dalla quale non distingue l'arrivo il Dio padrone gli ha ucciso la capacità di estendere le ali della percezione e di volare nell'infinito dei mutamenti il condizionamento educazionale cattolico ha distrutto il suo divenire il bambino è merce è uno schiavo pronto per qualunque uso che poi diventerà carne da lavoro trafficante di schiavi eroinomane o spacciatore di eroina guerra fondaio o trafficante di morte complice nel distrugge il divenire degli altri esseri umani pedofilo prete cattolico politico è assolutamente irrilevante le risposte che egli darà il condizionamento educazionale cattolico saranno i suoi adattamenti ad una situazione che ha distrutto la sua possibilità di sviluppare se stesso nell'eternità dei mutamenti egli è stato costretto a rinunciare a costruirsi se vorrà riprendere il cammino interrotto al lato della nascita del corpo fisico e con l'intervento del terrore cattolico dovrà incominciare a praticare il crogiolo dello stregone quanto dura e assurda sarà quella pratica per un cattolico lascia perdere gli diranno ma chi te lo fa fare solo se quell'essere umano riuscirà a sentire il respiro di libertà e farlo proprio allora e solo allora potrà intraprendere un cammino che lo sottrarà dall'orrore imposto e questo abbiamo finito con questo abbiamo finito di esporre l'intero concetto del crogiolo del male cosa significa questo? abbiamo cominciato a gennaio di quest'anno a costruire il crogiolo dello stregone il crogiolo dello stregone doveva rispondere anche nei suoi perfezionamenti successivi alla domanda che fare? va bene mi sta bene la cosmologia mi sta bene l'idea dell'universo mi sta bene che il mondo è divino ma io cosa faccio? bene il crogiolo dello stregone va a rispondere a questo va a costruire una struttura di pensiero attraverso la quale sottrarsi dalla posizione in ginocchio va a costruire una struttura di pensiero per centrare per considerare ciò che poi la percezione ti porta a sentire cioè il mondo che ci circonda è vivo è fatto da dei con i quali noi entriamo in relazione solo se sviluppiamo il Dio che abbiamo dentro solo se diciamo io esisto solo se ci sottraiamo dalla posizione in ginocchio bene il crogiolo dello stregone e il crogiolo del male va a descrivere come viene costruito il male vanno a costruire questo vanno a rispondere alla parola che faccio io cosa faccio io oggi come mi rapporto nella vita con quali occhi guardo la vita bene abbiamo cominciato a gennaio a fare il crogiolo dello stregone in quattro canti del mondo e abbiamo finito oggi col crogiolo del male 24 dicembre 1998 24 dicembre 1998 chiudo il crogiolo dello stregone se qualcuno gli interessa ne parleremo penso anche un pochino la prossima volta la prossima trasmissione di giovedì prossimo che è l'ultimo dell'anno per concludere per dire le ultime cose da dire e concludiamo il crogiolo concludiamo il discorso cosa faccio io come io devo fare per sentire per vivere il mondo in maniera diversa come mi devo rapportare a quel mondo ormai lo abbiamo detto e tutto quello che abbiamo detto in queste trasmissioni è diventato un patrimonio di Radio Gamma 5 perché tutto questo lavoro del crogiolo dello stragone è stato fatto in funzione di esporlo dai microfoni di Radio Gamma 5 per cui Radio Gamma 5 se un giorno mai costruiremo il Paganesimo se il Paganesimo riuscirà come noi pensiamo come noi siamo convinti a diventare l'essenza fondamentale di questo paese anche Radio Gamma 5 resterà nella storia anche per questo al di là di tutte le altre centinaia di cose che questa radio è incredibile è riuscita a fare perché solo questa radio poteva fare queste cose grazie allo spirito di Franco Carraro solo grazie allo spirito di Franco Carraro che magari a volte qualcuno vorrebbe prenderlo a patoni ma a volte qualcuno non è d'accordo a volte qualcuno a volte qualcuno lo ama e lo abbraccierebbe a volte qualcuno riempirebbe di baci e così via con tutte le sue flussi emozionali che sta allargando che sta sviluppando proprio come un fiume in piena con tutte le sue voglie il suo modo di toccare voglia di toccare il mondo eccetera solo Franco Carraro poteva mettere in piedi una cosa del genere e mantenerla che funzionasse a questi livelli perché un conto è costruire una cosa un altro conto è farla continuare nel tempo per cui ricordatevi sempre questa radio è effettivamente una radio preziosa per tutti almeno per tutti quelli che l'hanno ascoltata sicuramente ma anche per gli altri perché penso che un po' alla volta le caratteristiche di questa radio proprio la socialità che ha la radio andranno sempre più ad espandersi sempre più ad espandere il livello di ascolto bene detto questo ricordo che domani è il giorno 25 dicembre cazzo signora ruola il giorno 25 dicembre già il giorno in cui Elio Gabbalo un prete di Mitra ricordate un prete di Mitra lo stabilì per la nascita di Mitra che rappresentava il sole che aveva tutta una serie di una serie di elementi fondamentali per cui c'era il giorno della nascita del sole ebbene nei culti mitrianici io già vi ho parlato l'altra volta erano dei culti che nascono sono precedenti contemporanei e seguenti a Zaratustra nascono in Oriente ai confini dell'Afghanistan e l'altra volta ho accennato le tre vie alla conoscenza che venivano proprio nei culti orientali e l'ho accennato quando qualcuno mi ha chiesto credo sia stato Ivan il discorso del il discorso dell'alterazione della percezione il fatto di profeti biblici vedevano Dio eccetera e io gli ho risposto guarda che questi si facevano semplicemente di oppio cioè solo l'oppio ti porta a fare ste robe qua e leggo leggo dal libro Akura di Puek le religioni in Egitto Mesopotamia e Persia questo pezzo è stato scritto da ricordo che la storia delle religioni di Puek Akura di Puek è una delle più grosse storie delle religioni che abbiamo in giro Iran antico e Zoroastro nell'introduzione ci dice questi riti e queste credenze che non è possibile ricostruire se non a grandi linee gravitavano attorno al motivo della speranza dell'immortalità in linea di principio tre vie si dischiudevano verso un destino di beatitudine eterna la prima la più antica consiste nell'ingerire un liquido sacro sorgente di vita e di sopravvivenza Soma in India Ahoma nell'Iran eccetera questa è la prima via era quella di ingerire un liquido chiaramente il liquido state tranquilli che era ottenuto dai papaveri da oppio che crescevano abbondantemente in quella zona e questa era la prima via per cui uno alterava la percezione proprio con i papaveri da oppio la seconda via che in India conosco i saggi dell'Upanisadra in realtà anche i Zoroastrini i magi i seguaci di Mitra eccetera è quella che libera dalla morte attraverso la conoscenza cioè lo sviluppo della conoscenza della consapevolezza dell'esistenza di ogni attimo esistente la pratica del coragio d'ostragone la pratica di vita eccetera è libera dalla morte perché trasforma la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso e questa era la seconda via la terza via è quella predicata da Zaratustria ed è quella l'adesione a una giustizia ordinamento giusto e vero con pensieri parole ed azioni e vedremo come questa terza via usata dai cristiani diventerà la verità rivelata quella se ti sottometti alla giustizia divina allora ottieni il paradiso allora ottieni i ricompensi cioè queste tre vie sono alla base del zoroastrismo del zoroastrismo ma di tutte le religioni quelle che sono persiane precedenti contemporanee eccetera e fanno parte di quelle credenze che sono i magi i magi vediamo un attimino anche le immagini visto che ho questo libro qua in mano passiamo ai magi i magi secondo la testimonianza di erodoto erano originariamente una tribù meda essi non inumavano né bruciavano i morti ma li esponevano agli uccelli in pratica li esponevano perché perché all'interno della visione della stregoneria noi abbiamo veramente l'uscita del corpo luminoso dal corpo fisico cioè si può percepire questa uscita si può percepire sia col sentire sia col vedere cioè si può anche visualizzare in molti casi però si sente per cui cosa facevano questi siccome avevano l'uscita del corpo luminoso dal corpo fisico e di questi erano coscienti anziché sotterrarlo il corpo anziché bruciare il corpo lo lasciavano esposto agli uccelli lo lasciavano mangiare dagli uccelli perché così nel corpo restava semplicemente pasto per la terra mentre pensavano di favorire l'uscita del corpo luminoso dal corpo fisico per cui il motivo dell'esposizione che usavano i magi era solo questo praticavano sempre questi magi il matrimonio consanguigno ed erano specializzati in oniromanzia astrologia e magia oniromanzia interpretazione dei sogni più o meno deve voler dire astrologia e magia avevano una concezione dualistica del mondo e distinguevano gli animali da conservare da quelli da uccidere qua quel concetto di visione dualistica del mondo dobbiamo sempre stabilire cosa significa la dualità all'interno della stragonaria perché dualità può essere il bene e il male ma il bene e il male non è una dualità è solo una convenzione cioè dico bene ciò che mi favorisce dico male ciò che mi danneggia però se io ho un padrone dirò bene ciò che vuole il padrone e male ciò che il padrone non vuole cioè ciò che danneggia il padrone la dualità può essere quella del corpo fisico e del corpo luminoso però dopo dobbiamo anche discutere come le due cose entrano in relazione cioè non è che basta semplicemente dire c'è il corpo fisico e c'è il corpo luminoso bisogna vedere anche la relazione fra le due cose per cui il termine dualità lo lascerei un po' là quando Dario l'imperatore persiano riuscì a vincere Gumata lo mise a morte insieme con altri magi e l'avvenimento fu in seguito commemorato con una festa che si chiamava l'uccisione dei magi tuttavia la loro influenza continuò a crescere nello stato sino al punto che Rodoto poteva scrivere che non era lecito offrire un sacrificio senza l'assistenza di un mago il che vuol dire che questi individui si erano assicurati il monopolio della religione cosa è successo? è successo che c'è stata una guerra c'è stata una battaglia fra questa tribù Meda che praticava la magia che era fatta da maghi con l'impero persiano chiaramente l'impero persiano ha vinto e la tribù Meda ha vinto cioè in che senso questo? la vittoria del mago non è quella di conquistare il potere la vittoria di un mago di uno stragone è quello di riuscire a costruire la vita all'interno di qualsiasi struttura sociale economica di qualsiasi comando ci sia sia l'imperatore o la repubblica non ha nessunissima importanza per cui è vero che l'imperatore Dario ha vinto però proprio perché l'imperatore Dario ha vinto erano stati massacrati perché molti sono stati massacrati questo ha permesso ai maghi di essere parte dell'impero persiano e di costruire la struttura religiosa per cui non sempre chi ti tira fuori dalla merda lo fa per darti una mano e non sempre chi ti caccia nella merda lo fa per danneggiarti credo che la cosa sia di un di un film tipo Terence il mio nome nessuno una roba del genere dunque in possesso di tale monopoglio i magi si spacciarono per discepoli Zoroastro perciò molte fonti greche lo considerano un mago questa opinione che è stata ripresa e difesa anni fa da Messina incontra un grosso ostacolo se Zaratustra fosse un mago ci si aspetterebbe che la Vesta lo chiamasse con questo nome ora non solo questo non avviene ma il termine mago è del tutto assente nelle gatta e non figura che una sola volta nel testo della Vesta e così via e dopo c'è tutta quanta la discussione praticamente chi sono questi magi che secondo Matteo arrivano a domaggiare il suo pazzo profeta sarebbero praticamente quelli che hanno considerati a quei tempi e in quella situazione i sapienti dell'Oriente cioè quelli che gestivano tutto il sistema religioso persiano per cui figuriamoci un po' che cacciata che sta mettendo in piedi in piedi Matteo cioè sta gente sarebbe venuta ad omaggiare quello appena nato perché loro avevano visto nelle stelle se questi qua avessero visto nelle stelle quello che Matteo afferma la religione cattolica non avrebbe mai avuto nessun pretesto nessuna possibilità di condannare gli astrologi perché l'essere astrologo porta a individuare il Dio padrone porta a leggere quello che è la vita porta a interpretare ciò che succede per cui se il testo dei Vangeli dicesse una cosa reale la Chiesa Cattolica non potrebbe condannare nessun mago per cui è chiaramente una cazzata cioè quella che scrive Matteo va bene e allora passiamoci un attimino agli oracoli caldaici vi dico qualcosina degli oracoli caldaici quelli che andremo a commentare da marzo in poi ve ne leggo solo un pezzo e vi leggo il frammento 107 perché vi leggo il frammento 107 perché è divertente attenzione cosa dice l'oracolo caldaico frammento 107 non porre mente non è stata generata per te l'ampia palmatura delle ali degli uccelli nel cielo non è mai veritiera e non lo sono le sezioni di vittime e di intestini tutti questi non sono che giochi e fondamenti di una frode venale fuggili se vuoi dischiuderti le porte del giardino sacro della pietà dove virtù sapienza ordine armonico si adunano questa c'è una condanna di chi legge il futuro nei viscere degli animali di chi legge la voce della luna soltanto per soldi di chi predice il futuro e c'è una condanna di chi si pensa che il sole sia creato per lui la terra creata per lui e data a lui da un dio padrone bene questo è il frammento 107 e con tutti i frammenti degli oracoli caldaici andremo a fare il commento vi ricordo una cosetta però da quando abbiamo cominciato queste trasmissioni abbiamo cominciato con una serie di trasmissioni che ci presentavano poi abbiamo continuato con una serie di trasmissioni per presentare la conferenza che portiamo in giro che sarà quella che riporterò più avanti abbiamo continuato col crogiolo dello stregone abbiamo continuato con dei commentari che non sono stati finiti sono stati interrotti sono sempre là da portare avanti che un giorno porterò avanti delle figure della religione romana abbiamo continuato con un'operazione di stregoneria che è cominciata dall'Ottocento e ha finito nel 1789 proprio per la costruzione di libertà ebbene siamo andati avanti ancora con le trasmissioni nel crogiolo dello stregone e nel crogiolo del male abbiamo fatto un altro ciclo che presentavamo l'interpretazione di alcune strutture pagane di alcuni pensieri pagani vi ricordate? abbiamo preso delle piccole strutture proprio per entrare dentro bene tutto questo lo abbiamo fatto fino ad oggi pronto? ciao sono celtico me quello che piace è seguire i celtici cosa dici che fiamo con questo Natale qua dei cristiani? beh io celebro strengua a te celebro io vorrei fare una cosa celtica un rito celtico qualcosa un bel rito celtico esatto lo puoi benissimo fare comunque siamo sempre nella solita strada le mie idee se troviamo nei sogni che roba è continuo così che devi entrare va bene grazie bravo ciao ciao ci si incontra anche nel sognare a proposito visto che questo radioascoltatore mi ha accennato a questo